Se c'è un libro che bisogna assolutamente leggere per capire quella che è stata la prima guerra mondiale, vista dal di dentro, dalle persone che l'hanno subita, è senza dubbio Un anno sull'altipiano, di Emilio Lussu. E se c'è un libro che bisogna assolutamente leggere per capire che cosa è stato l'olocausto, dalla parte di chi c'è stato dentro, anche se con una testimonianza tutta particolare, è senza dubbio il libro L'ultimo Sonner Command italiano di Enrico Vanzini, o meglio, curato da Roberto Brumat, che ha per così dire agevolato signor Enrico, la sua grande voglia, dopo tanti anni di silenzio, di raccontare, giusto? Questo è giusto, è vero. E come si fa a raccontare dopo tanti anni di silenzio? Come mai si sta tanti anni in silenzio e poi... Perché, guardi, io quando sono ritornato a casa ero malato, dovevo andare d'urgenza all'ospedale militare che io ero a Varese, cioè l'ospedale era a Varese. Io avevo 25 chilometri da percorrere per andare all'ospedale. Allora sono andato a vedere qualche ente, magari come, diciamo, quell'ente che doveva venire a prenderci fino a Monaco e invece non si è visto. Ero un ente, diciamo, del comune, un ente che... Pubblico? Sì, di pubblico. Pubblico, statale. E allora sono andato a vedere perché gli ho detto io, devo essere curato perché c'è sangue che è infettato per forze di cose. Ricorda perfettamente, io credo, quel giorno in cui è arrivato... Beh, innanzitutto mi dica una cosa, che cosa vuol dire, spieghiamola a casa, cosa si nasconde dietro la parola Zonne al Commando? Cioè, era che noi eravamo comandati di fare ciò che facevano due, diciamo, veramente due che erano ai forni grematori. Questi due erano due normali, due... Prigionieri militari? No, no, erano civili che facevano quel lavoro in questi forni. Forni grematori. Crematori. Campi di concentramento. Sì, ad Acau. E quindi questi sono stati trasferiti, dovevano essere trasferiti a Monaco per altre mansioni. Allora ci hanno obbligati noi a fare quelli che facevano loro. Cioè, praticamente, si doveva fare, buttare questi poveretti, questi cadavri che erano dentro il lager, dei forni grematori perché volevano distruggere più che potevano ciò che avevano fatto. Lei ha visto delle cose che senz'altro l'hanno segnata e che hanno fatto sì che per 60 anni, come dicevamo prima, ci fosse silenzio. Sì. Poi lei ha capito che invece bisognava con fatica riaprire quella ferita, no? Parlarne. Sì. Giusto? Sì, perché io, a dire la verità, sono stato 60 anni senza mai parlare perché, come ho detto, che non c'era nessuno che ci aiutava. E allora, su questo caso, io, è stato una volta che dovevo fare delle punture perché avevo tutti i dolori del battosta che si è preso. E quindi sono andato da un'amica di casa che prima faceva l'infermiere, diciamo che era in pensione e sapeva che faceva le punture come si voleva. E allora sono andato a farle. In quel mentre lei, questa donna, aveva due ragazze che faceva, una faceva la maestra a Tezzi Sobrenta, l'altra invece faceva la maestra a Cittadella. E allora stavano guardando un, diciamo, era un filmato, una rivista, un libro? No, una rivista. Stavano guardando questa rivista e era una rivista dove, verso lo Shoah, verso questi giorni. Sì, che ricordava questa giornata della memoria. Sì, questa rivista portava, diciamo, le figure degli ebrei che facevano delle cose che... E allora mi hanno detto, guarda qua, no? Ho detto, cos'è che guarda? Se io sono stato, no? E ho visto questa gente. Allora sono rimasti là, no? Ha detto, ma è possibile? E allora mi hanno detto, no? Rimani a pranzo che vogliamo sentire la tua storia. E lì è ricominciata la storia? Quella che lei ha portato poi... Sì, dopo l'ho portato per le scuole. Sì, certo. Prima di arrivare al libro. Tante scuole, scuole anche adesso naturalmente. Sì, sì, sì. È quattro anni che io vado nelle scuole e sono molto contento perché ascoltano con certi interessi queste cose. Poi fanno domande e io per me, mi sembra che il tempo mi fuggi. Mi dica una cosa, adesso le faccio raccontare appunto anche di quelle giornate. Ma quando lei sente parlare, mi sente qualcuno che nega l'esistenza di quei periodi delle camere a gas, dei campi di concentramento, cosa pensa? Beh, io guardi, le dico la verità, è stato poco tempo fa, una sera mi telefona un signore, mi ha detto che era o un geometro, o un ingegnere, e mi ha detto, ma lei, signor Vanzini? Sì, sì, perché ha bisogno di qualcosa? Credo che magari fosse qualche maestro che... Ha detto, io sono un ingegnere tale e guardi che ciò che dice a lei, io dico che non è verità. Perché io so che i campi di concentramento che lei dice non c'erano né camere a gas né forni a grematoio. Ho detto, senti signore, mi faccio la cortesia, ho fatto sette mesi io e ho lavorato dentro questi qua. e ho tirato fuori persone dentro le camere a gas. Quindi, come fa lei a dire questo? E mi dice anche che io sono quello come un impostore. Ho detto, mi faccio la cortesia, si informi bene e poi mi domani. Si ricorda la prima volta che l'hanno preso, obbligato, e lei si è reso conto di quello che succedeva là? Sì, questo qua è un fatto che noi al mattino si dovevano andare fuori sul grande piazzale. Là venivano a chiederci i lavori, chi nelle fattorie, chi fuori, chi dentro le fabbriche. E allora è stato che mi hanno chiamato perché si andava a numero più a nome. E allora bisogna stare attento che il numero, perché in tedesco è molto difficile. E mi hanno chiamato, io e un francese. E allora siamo andati fuori e mi hanno detto Anso, hai fatto i forni di grematoio? Ma di uno e due dovete lavorare i forni di grematoio? E io non sapevo neanche cos'erano questi forni. E allora mi hanno accompagnato con la guardia e siamo andati là. Quando ho visto che ho aperto la porta, mi è venuto come una vampata di calore, un odore di cadavere proprio strano, di carne bruciata. Io sono rimasto là e ho visto questi forni che c'era un fuoco, può darsi anche magari a mille gradi, chi lo sa. Perché se si buttava una persona in cinque minuti, non era perché che è posto. Cosa c'era in quelle camere a gas? Che cosa ha visto in quelle camere a gas? Cioè, più che altro, dentro là, io ho sempre levato gente ebraica che arrivava. Gli dicevano andiamo che facciamo le docce. E io una volta l'ho sentito, la prima volta, ho detto ma se le docce sono di là e qua vanno sulle camere. E allora sapevano dove erano. E allora li hanno messi dentro dicendo che erano le docce. Loro poveretti, pensando di andare dentro le docce, invece aprivano il gas. Verso sera sempre. Al mattino c'era una strage. Abbracciati, avvinchiati l'uno con l'altro e sentivano la morte vicino. Si stringevano. Al mattino si doveva levarli per metterli nei forni. E come si fa a mettere due persone attaccate e avvinchiate? Allora si cercava di distaccarli con la forza e si sentiva che si rompirono perfino le ossa. Perché col freddo, diciamo che era il mese di ottobre o novembre, là c'era la neve già. E quindi... Per quanto tempo ha sentito quei rumori? Per quanto tempo ha sentito quei rumori di ossa rotte, quell'odore infinito? 15 giorni sono stati. Interminabili giorni. 15 giorni proprio guardi interminabili perché io avevo sempre un mal di testa. Mi sentivo sempre strano. E poi quando che si buttava dentro questa gente, le mettevamo sulle grate e poi si alzava. Fino a quando c'era forza. E dopo le forze mancavano. E allora cosa hanno fatto? Hanno fatto che hanno messo come una leva, si tirava, si alzava e andavano dentro al forno. Perché? Perché non eravamo più capaci. E allora loro avevano bisogno di eliminare tutti questi cadavri. Come si stava? Come stavano i suoi compagni? Come si sopravviveva dentro quel campo, ad Acau? Guardi, come diciamo, il vitto era una cosa proprio che ripugnava. Perché ci danno il mattino, dopo la sveglia, che ci svegliavano alle 4 del mattino. E là si doveva andare fuori, che c'erano due pittoloni grandi, che dicevano di prendere il tè. Si andava fuori. Io la prima volta non ho potuto neanche prendere niente, perché non ti danno mica un bicchiere o qualcosa di poter bere. Ti arrangiavi. E allora, il giorno presso, che sono andato a lavorare, in quel giorno sono andato a lavorare nella stazione di Monaco, e sono andato a cercare i rifiuti, ho trovato una scatola di quella della conserva, quelle scatole là, allora l'ho pulito un po', col dito un po', che c'era la muffa dentro, vedi, in questa scatola. E allora ho preso, al mattino ho preso, ho detto, voglio vedere cos'è questa roba, perché era color verde, c'era perfino la schiuma verde sopra, e allora sono andato là, l'ho presa, ho fatto per berla, mamma mia. C'erano tanti militari con lei? Eh? C'erano tanti militari con lei? Ricorda? Io, guardi, che posso ricordare, noi eravamo in tre, no, ma dentro dell'agro, cioè quando mi ha preso, che mi ha portato al campo di lavoro, prima, a Ingolstadt, là si lavorava, dove c'era una fabbrica, noi facevamo i cararmati, e allora sotto eravamo noi, sopra c'erano le donne russe, giovani, che facevano le bombe a mano, bene, di là, no, quando che noi abbiamo tentato la fuga, perché la fabbrica è stata distrutta dopo abbardamento, e allora abbiamo tentato la fuga, perché? perché pensavamo, qua non c'è più nessuno, e chissà dove mi manderanno, chissà cosa faranno, e allora andiamo, tentiamo la fuga, allora siamo andati dentro, abbiamo preso, quel che è rimasto, dove c'era la cucina, e il buzzagno, e cominciato alla sera a via, e allora si seguiva, il rumore dalla strada, è un fiammiciato che era vicino alla strada, quelle erano le nostre indicazioni, per cercare di andare, questa strada andava fino all'inizio, giù, tra, i confini tra la Germania e l'Austria, ecco, e quindi, noi per 15 giorni, abbiamo fatto questo cammino, e fin quando c'era qualcosa nello sanno, si mangiava, e dopo bisognava mettere qualcosa in nostro lavoro, allora si prende patate crude, si lavano dentro, quello che c'era, dentro questo coso, si mangiano crude, qualche carota, dopo l'8 settembre, dopo la Grecia, dopo questo tratto di prigionia, lei riesce a tornare a casa, poi una vicenda particolarissima, la obbliga ad un cambio completamente, la riportano via, i tedeschi la prendono, e c'è un fatto particolare, c'è quel fatto per cui la sua vita potrebbe essere cambiata, perché c'era il portone di esecuzione. Sì, quando c'ero, là è stato così, che noi, dopo 15 giorni che si camminava, una sera, abbiamo visto da lontano, sempre che ci sono pianure terreni, come una casupola, e allora si pensava che dentro là ci fossero dei contadini, che ci possono aiutare un po', e siamo andati là, invece è venuta fuori una ragazza, questa qua, e andava a prendere l'acqua fuori, e allora io l'ho chiamata prima in tedesco, e poi in italiano, e allora mi hanno detto, ma chi siete italiani? Io ho detto sì, noi siamo scappati, perché siamo scappati dalla fabbrica, che era distrutta, allora ho detto, aspetta che vado da mio nonno a dirgli preparare qualcosa di caldo, e infatti no, parlavano in italiano, e infatti, vi siete fidati? Sì, fidati, siamo andati là, c'erano due dalla Wehrmacht, due militari, come si erano entrati, col calcio del mitra, ci erano buttati a terra sulla schiena, questa qua era una spia, una ragazza spia italiana, giovane, che la faceva per i soldi, bene, e allora, quando che lei era là, che stava mangiando e bevendo con questi tedeschi, dentro sta casupola, noi eravamo là, vicino al fuoco, legati, e allora mi guardavo ogni tanto, e io gli dicevo, perché parlavo, perché ci hai tradito, parlavo anche milanesi, io di Varese non capivo, e gli ho detto, sei stata brava, ho detto, però verrà che è il tuo momento, e lei mi ha detto, a me non mi interessano solo i soldi, bene, e così, quei sacrifici che abbiamo fatti, per nulla, perché ci siamo andati indietro, alla stazione di Monaco, c'era la Gestapo, l'SS, i borghesi, ci hanno preso, ci hanno messo i colsi, e anche le caviglie, e ci hanno portati a Buchenwald. Ed è nato, quel numero, 123.343, faccio fatica a dirlo in italiano, chissà in tedesco. beh, ci è voluto, a quasi 15 giorni di più, per impararlo, perché dopo, io imparavo un numero alla volta, me lo mettevo nella testa, perché è difficile, fare tutto un numero così, mille e tanti, invece, se fosse, Anzio, Anzio, Aytra, Fierfone, fino al 30 così, lo sapevo, ma allora, leggevo un numero alla volta, me lo mettevo nella testa, no, perché dopo, quando mi chiamavano, bisogna presentarsi, e se sbagliavo, erano botte, avevo quei nervini, che ogni colpo... com'è stato, com'è stato quell'inverno? Oh beh, una cosa, guardi, là ci ha andato, si camminava, con quel vestito di tela, solo tela, non avevamo niente sotto, e senza calze, con su questi zoccoloni di legno, vedi, un barettino piccolo, e là si doveva andare contro l'intimperia, nevicava, pioveva, tirava vento, e là si doveva andare al lavoro, e battere i denti tutti i giorni, perché si sentiva, come aveva su, diciamo, una cosa, una gaza, lo stesso, e si vede la luce di là, di questa cosa che mi ha dato, e l'inverno, là nevica, molto nevica, e là si doveva, per forza, non c'era nessuno, non ti davano neanche, un fazzoletto, tanto per dire, vedi. C'è stato un momento, in cui, naturalmente, lei è rimasto profondamente, turbato, da quello che stava succedendo. Sì, è stato, quando che lavoravo, nei suoi forni di grematoi, io, sul lato, non lo servavo bene, questo, perché mi aiutava, io aiutavo lui, per mettere su, e in due, uno davanti, lui dietro, e vedo questo, questo tipo, questo francese, che lavorava con me, dopo un po', vedo, proprio, sono rimasto là, perché ho visto, che gli facevo, i segni nella croce, a uno, a tutti quei poveretti, che metteva su, per prima di buttarli nel forno, e io sono rimasto là, allora, dato che, non sapevo il francese, lui non sapeva tanto, si andava, dicendo, a segni, ho detto, cosa fai, fai il segno della croce, ormai che ha fatto, ha detto, parroco, ha detto, niente parroco, io, come dire, questo, questo poveretto, non ha nessuno, e anche, giusto, che gli faccio, come benedirlo, e faccio il segno della croce, no, prima di buttarlo, in questo inferno, mi ricordo che, che giorno là, c'era 20 centimetri, nevicava, era una domenica, e allora, arriva un carro, perché, alla domenica, e a sabato, mandavano in giro, i carri, tra i nati da noi, poveretti, che non avevano neanche la forza, con su, magari 20, 30, 40 morti, e questo carro, è passato, dalle infermerie, per ultimo, perché veniva verso i forni, e ha caricato, 5, 6 persone, e io, sono andato fuori, con questo francese, che mi aiutava, e, ho preso, i primi, di dietro, e, quando che ho preso, questo qua, mi sembrava ancora, come, ciepino, mi sembrava, non proprio, quel freddo, di morte, no, e allora, oggi, ma no, l'ha portato dentro, io e l'altro, l'ho messo sulla grata, e, fuori, c'era la neve fresca, mi si è attaccato, la neve, sui zoccoloni, in legno, e come ho messo questo corpo, no, io, sono scivolato, e sono andato con la, con la testa, quasi, sul corpo, no, e sentivo, ma questo qua è ancora vivo, sentivo, gli ultimi battiti nel cuore, sentivano, io, sono rimasto là, ho detto, ma questo qua, poteva vivere ancora, e invece, gli facevano le punture, e le mandavano a creatore, quante volte si è svegliato, di notte, di notte, quando è tornato a casa, ricordando quei giorni, le prime notti, le prime, cioè, proprio quando mi sono sposato, anche, no, io, avevo sempre, una cosa dentro di me, e durante la notte, mi sembrava, di vedere le fiabbe davanti, come, dei forni, ogni tanto, mi svegliavo, sembrava che uno, mi battesse, no, e cercavo di difendermi, e tante volte, magari facevo così, per mandarlo via, e gli dò, nel campo, sulla faccia la moglie, e lei si svegliava, e mi diceva, ma che cos'hai, io ho detto, guarda, ho incubi così, ma farti vedere dal medico, mi ha detto, no, che c'è qualcosa che non va, si vedeva, nel campo a Dachau, si vedevano arrivare, i treni, i convogli, il camion, entrava, una volta, era di domenica, e mi ha messo, dato che non si lavorava, e mi ha messo a pulire, cioè a mettere un po', le seppi, quelle seppe basse, vicino alla cucina, che volendo che tagliavano tutti i rami, che venivano fuori, e allora, vede che si apre il cancello, e entra il treno, ho detto, mamma mia, chissà chi sono, pensavo che ci fosse qualche italiano, magari gente che faceva le rettate, che le portavano, invece erano tutti ebrei, perché ho visto scendere, donne, bambini, piccolini, in braccialo, ragazzi di 3, 4, 5 anni, che erano vicini alla sua mamma, e hanno preso, hanno levato tutti i bambini, a forza, li strappano via, dai suoi papà, e li caricavano, sul treno ancora, nei vagoni, e le donne tutti, e quindi hanno lasciato, solo gli uomini là, e ho detto, ma come mai, e il treno è partito, ho detto, ma dove vanno, allora, i russi, che sapevano tutto, perché lavoravano nelle cucine, vede loro, i russi, i russi, c'era qualche cuoco, così, ma avevano un po' di soluzione, le russi, e li mettevano a fare, certi lavori, un po' meno pesanti, e allora, il russo, ha detto, mi ha detto, dove vanno, no, mi ha detto, vanno ad Auschwitz, no, è il concentramento dei rebei, degli ebrei, e allora, no, ho detto, mamma mia, e vedo questi uomini, che gli danno, i tedeschi, gli danno pezzi di pane, no, cose come formaggio, ho detto, a lui ci fanno morire, e qua, come mai che c'erano, e poi vede che entra un camio, un camio della verba, che è un militare, e si gira, e si mette, dalla parte di dietro, del cassone, e verso questi, aprono, tirano sul telone, e là c'erano due mitragliatrici, e ho cominciato a sentire sparare, tutto, con un po' retino, massacrati, e dopo c'era chi si lamentava, che era ferito, che non, e allora cosa faceva, passava, passava, un comandante, là un capo, e con la pistola, gli sparava la testa, c'è stato un momento in cui ha detto, di qua non esco vivo, c'è stato un momento, in cui ha detto, di qua non esco vivo, ah beh, guardi, appena, quando che ho cominciato a vedere, che era un mese o due, che ero dentro, che cominciavo a sentire, il declino della vita, proprio, mangiare quasi niente, tutta porcheria, non aveva, neanche sale, niente, proprio, ci davano come l'acqua, con dentro tutta, della roba, che non so, con neanche cos'era, che faceva il ripresso, mangiarla, e un, tante volte era acqua, tante volte era dura, buttavano dentro di tutto, spaccarla, vedi, e là ho detto, qua no, è impossibile che vivo ancora, e allora, ho detto, signore, fammi la grazia, ho detto, fammi vedere ancora mio padre, mia mamma, se si aggrappava, a un qualcuno, a qualcosa, che nella mente ci venivano, e allora chi era? Era Dio, oppure la mamma, perché la mamma era sempre quella che per primo si nominava, vedi, e io, è stato il giorno di Natale, e ho detto, c'era la messa italiana, dei padri, dei preti italiani, che sono stati deportati, loro avevano un'altra mansione, e allora, sono andato, e c'era quella italiana, quella ebraica, e quella protestante, e allora ho detto, vado a sentirmi la messa, e il comandante, verso le dieci, e così, prima che iniziassi la messa, ha detto, no, oggi ci sarà un pranzo speciale, cosa davano? Davano una patata, più che altro che ne ho mai dato, perché è sempre dato porcheria, e allora ho detto, non mi interessa, vado a sentire la messa, mi sembrava, che sentindo la messa, mi, diciamo, mi portavo, si ricaricava, mi scaricava un po', e allora sono andato dentro, c'è un disco, che si sentivano, i canti natalisti, italiani, e ogni tanto guardavo la parte, mi sembrava, che avevo degli amici, o mio padre, mio fratello, quante volte si è chiesto, quante volte si è chiesto, io ce l'ho fatta, come mai, proprio io, rispetto a tanti, che magari non ce l'hanno fatta, sei fatto questa domanda? Perché, vedi, in quel momento, ho anche detto, signore, se tu veramente ci sei, e sei padre di tutti, aiuta questo tuo figlio, fammi ritornare, fammi vedere ancora la mia famiglia, era quattro anni che non sapevo niente, vedi, io sono andato col pensiero, e sono venuto fuori, e cosa ho preso? Ho preso tante di quelle vergate, che non mi interessava, a me mi interessava, che un qualcuno mi proteggesse, e allora, questo qua, mi ha chiamato, lo sono presentato, e mi ha aspettato, che non mi ero fuori, un comandante, mi ha dato tante vergate, poi mi ha messo dentro un bunker, un bunker di ferro, senza niente nudo come ero, un freddo, che io, tu pensi che, camminavo un po' a stento, ma camminavo per non congelarmi, non congelarmi, è tornato a Dachau? Sì, sono tornato, con mio figlio, che siamo andati a fare, lui compiva i 18 anni, e allora, mi ha portato a fare un giro, per lui, era in Svizzera, sul lago di Costanza, e allora, ha detto, andiamo a Monaco, e che siamo vicini all'Austria, andiamo fino a Isbrich, e poi andiamo su, dove c'è, fino a Monaco di Baviera, ho detto, ma non a Monaco, pochi chilometri c'è da Caudo, e allora ho detto, andiamo fino a Caudo, lui mi ha detto, ma cosa c'è da Caudo? Ho detto, io so che c'è qualcosa, che poi dopo vedrete, allora lui è anche curioso, è venuto, andiamo, siamo andati, allora, non c'era, c'era, come un'entrata, no, di pannelli, che si entrava, si girava, e c'erano tutte le foto, su questo. Ha cominciato a dire qualcosa lì, a suo figlio, di quella storia, o è arrivata dopo? No, 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 ho mai parlato io con mio figlio di queste cose, ma siamo andati dentro, io mi sono fermato dove c'era la baracca, perché tutti, tutti bruciati quelle baracche, ma i numeri ci sono, e anche i segni. Se la ricorda bene. ecco, e l'anno sono fermato a guardare, ho detto, quanto sofferto qua dentro, tra me e me, e lui mi diceva, andiamo, cosa fai l'anno? Ho detto, vengo, vengo, e infatti, loro andavano verso la chiesa protestante, per vedere che era proprio in faccia, e io ho cercato di andare, dove c'erano i forni, che erano di dietro, e allora, loro dicevano, vieni a vedere qua, ma no, ma non mi interessa, ho detto, vado di qua io, allora fa, allora aspetti che veniamo anche noi, e ho detto, andate dopo o no, e infatti, sono venuti là, e io, li ho portati, apriamo la porta dei forni, e ho detto, ma cosa, cosa facevano qua, cosa bruciavano? Lei lo sapeva bene? E ho detto, ma, vedi, queste, ma cosa, sono forni, sì, sono forni, ma sono mica forni per fare il pane, ho detto no. Sono forni diversi. E allora, come sono, pensi che, c'era ancora, un po' di quell'odore, che si sentiva, una minima parte. Nonostante passati gli anni, e tutto, veramente, era impregnato il muro di quella tragedia. dove c'erano tutte le ossa che si voltavano, l'ha fatto un monumento, un monumento, c'è un prigioniero, vestito, come era. Ma in pelle e ossa è tornato anche a lei a casa? Eh sì. La mamma cosa ha detto, quando l'ha vista? Non mi conosceva più, non mi riconosceva più, mi ha detto, quel giovanotto, di 86, 80 kg e passano, sì, sì. Era ridotto a 30 kg. Ma pesato mio zio, ero 29,3 kg, pensate, neanche 30 kg. Quindi, io ho lasciato tutta la mia gioventura dentro là, e anche la mia carne. E quindi, io sono arrivato a casa, mia mamma è venuta là, e non mi conosceva. E allora, mio padre ha detto, ma guarda che è tuo figlio, vai a abbracciarlo. E lei ha stento, perché diceva, ma io non lo conosco. No, e lui mi ha detto, guarda che è ricco, è tuo figlio. Allora, si è messo un po' di coraggio, è venuto là, quando come l'ha vista, è stata una cosa, si è un buon abbraccio, e aveva ancora quel pezzo di pane di quella donna che io ho sempre avuto nel cuore. Ecco, mi racconta questo episodio qua, perché io quando, quando mi hai raccontato, prima di entrare in registrazione, a questo episodio, io ho pensato a padre Cristoforo, a Promessi Sposi, che portava nella bisaccia un pezzo di pane, indurito ormai dal tempo, però che aveva un grande significato. È successo anche a lei? Sì, perché è stato, proprio i giorni di gennaio del 45, quindi era quasi, diciamo, alle porte, gli americani, e allora si vedeva, cioè un altro comportamento delle guardie che era dentro, non si vedono così più, ce n'era qualcuno che era costretto a stralare, o qualcuno che dopo magari ha anche combattuto dopo con gli americani, e quindi questi qua, ci hanno chiamato fuori e ci hanno incolonato una quindicina, si andavano in una fattoria vicino, che è una fattoria, che là si prendeva, si mangiava un pezzo di pane, un po' di patata calda, vi hanno comportato comunque a lavorare, a lavorare, e quindi io non so mai stato, nel tempo che sono stato dentro, ho sempre fatto lavori pesanti, e allora si incoloniamo per andare, e vado fuori di questo cancello, dopo ho fatto 20 metri, e vedo che c'era una donna che poi cercava di correre un po' di più di noi per arrivarsene, e aveva quei folari in testa, quelle golle lunghe, un po' larghe, era una contadina guardando così, e allora io ho detto ma cosa vuole questa donna? Ho detto, ma speriamo, perché avevo paura di quello che ci accompagnava, e allora dopo un po' che mi seguiva, mi ha detto François, no, e ho detto no, non sono francese, italiano, io, Essen, Essen, mette dentro la mano queste golle, e le tira fuori un pezzo di pane nero, e allora mi ha detto, mi ha detto no, Brot, pane, Brot, Guten, Essen, è pane buono a mangiare? E allora io dicevo, no, no, perché avevo paura di quello che mi ha detto. Terrorizzato dalla guardia. Eh, dalla guardia, e allora lei, non ha voluto sapere, mi ha allungato la mano, io l'ho preso, perché avevo paura dell'altro là, e l'ho messo sotto il beretto, perché non avevamo mica nei taschi di niente, dove lo metto? L'ho messo sul beretto, ho detto, speriamo che non si accorga, perché lui, questo qua, quel mentre che lei ritraeva la mano, questo qua ha sparato, ho sentito il puro, metto vicino ai piedi, e questo poveretto che casca e va giù, che c'era un po' diciamo, di dislivello della strada. Io sono rimasto là, non avevo neanche il coraggio di andare avanti, no, e allora questo qua è venuto là, e ha detto, no, l'ha incitata ad andare, no, è puntato il mitra sotto al mento, no. E che fine ha fatto quel pezzo di pane? Eh? Che fine ha fatto? Chi? Quel pezzo di pane? Io, no, l'ho portato a casa, l'ho mica mangiato, ho pianto tutto il giorno, sono andato alla fattoria, volevano darmi qualcosa, io ho rifiutato, quindi, pensando a quella donna, sì, perché ho detto, mi sembrava come avere una colpa, invece io l'ho avvertito, e l'ho anche detto, e di no, ma lei, poverina, me l'ha dato, mi ha visto proprio in condizioni così, pensava che questo pezzo di pane mi tirava su un po', invece io l'ho preso, no, e l'ho conservato, anche quando che c'erano gli americani che mi hanno vestito, l'ho messo dentro al giubretto e l'ho portato a casa, e quindi quando che mia mamma è venuta là, che ci siamo abbracciati, ho detto, mamma, io piango dalla contentezza che sono qua con te, però piango anche, mi viene in mente una cosa, mi ha detto cosa? Quella donna? Mi ha detto no, vedi questo pezzo di pane, questo pezzo di pane, una donna, di 80 anni ha perso la vita, per darlo, per sosterziarmi un po', a lei si è messa a piangere, mi ha detto no, dammelo, che io vado in chiesa, e lo dono a Dio, mi ha detto così, io, e io sono stato, proprio, non sapevo, ho detto signore, ti ringrazio, che mi hai dato la vita, vedi, e ho trovato ancora il mio papà, e mia mamma, che non speravo più, vedi? Quando si alza la mattina, in giornate come questa, e con l'amico Roberto Brumat, va in qualche scuola a parlare, e si mette quelle medaglie, cosa pensa? quando infila quella medaglia, che ha lì al petto? Sì, questa qua mi è stata donata, proprio dal Presidente della Repubblica, mi ha, era il 29 di gennaio dell'anno scorso, allora mi ha dato la mano, mi ha dato la medaglia, e ha detto, portala sempre, quando che vai nelle scuole, che guardi i bambini, e questo qua, è una cosa, che ti fa ricordare tante cose, e va bene il Presidente, e porta sempre, diciamo, vi ha detto, porta sempre la tua testimonianza, che sappiano cosa vuol dire la vita, cosa vuol dire i sacrifici. A chi la dedica, idealmente, quella medaglia? Forse un pezzettino a quella donna? Veramente, forse un pezzettino a quella donna? Metà della mia riconoscenza, la devo a questa poveretta, che ha perso la vita, veramente, questo è il fatto. Grazie Enrico. Prego. Grazie. Io sono contento di essere qua, e sono contento di collaborare, di dire ciò, che io ho patito, sofferto tanto, ho pianto tanto, vede, e queste sofferenze, io le porto in queste scuole, che i bambini, i ragazzi sappiano, cosa vuol dire la guerra, cosa vuol dire le sofferenze, cosa vuol dire i patimenti, e loro mi ascoltano, veramente. a quello, e loro, ciò. ,